e negli anni successivi non ha purtroppo ricevuto le necessarie e adeguate cure. Con la nuova giunta vedo che il sindaco è sempre molto interessato alle attività comunali. Redini, io capisco, il pubblico non può parlare. Vai fuori, vada fuori. Le spiego una cosa, se lei, no, ascolta, Redini, io mi rivolgo a te, perché il tuo ruolo istituzionale, non puoi prestarti a questo. Il sindaco stava parlando di una cosa che... Io non mi presto a niente, ho fatto una considerazione. Ascolta, Cagliani, ti butto fuori, ecco, vai fuori. Perché vuoi che chiami i carabinieri? Guarda, Cagliani, te non puoi stare... Ma Cagliani, ma ti rendi... Io vado avanti, ma te non hai nessun senso istituzionale di rispetto. Ma stai lì, ma stai zitto. Ma Cagliani, ma cosa stai facendo? Vai fuori, vai fuori, ti denuncio, ti denuncio, chiami i carabinieri... Vai, Cagliani, vai fuori, per favore, vai fuori. Redini, puoi chiedere di andare fuori anche te? Invitolo ad andare fuori. Cagliani, io sospendo il consiglio se non vai fuori. No, 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 sospendo il consiglio se non... Vai, sospeso il consiglio. Invitolo ad andare fuori, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore. Invitolo ad andare fuori.